A Isernia preferiscono farsi curare fuori, lo rivela il sole 24 ore che colloca la città al primo posto in Italia per persone che si ricoverano in altre regioni, intanto i sindaci si incontrano di nuovo per discutere del veneziale. Il Consiglio regionale e i bandi per le assunzioni, seduta monotematica domani chiesta dall'opposizione per fare chiarezza sui concorsi per il personale, l'argomento ha già provocato tensione nella maggioranza. Sgravi fiscali a chi dona cibo in eccedenza, iniziativa termoli per chi recupera generi alimentari, presentato il progetto rivolto agli operatori per abbattere lo spreco e aiutare persone in difficoltà. Il Vino Novello nel giro di San Martino, la cosiddetta estate di San Martino, apre di fatto la nuova annata enologica, gildone piatti della tradizione e passeggiata nel borgo. La Molisana vince, rimane a più 4, il Livorno impensierisce le rosso-blu solo nei primi due quarti, poi le ragazze di Campobasso superano le Toscane, vince l'Under-16 al debutto in casa contro il Penne. Un saluto a tutti voi dalla redazione, ben trovati all'edizione delle 14, la prima edizione del nostro telegiornale. Partiamo con la sanità e ci occupiamo ancora una volta del veneziale. Lo facciamo perché i sindaci della provincia si sono di nuovo incontrati per discutere del futuro del loro ospedale di riferimento e poi perché il Sole24oro ha pubblicato una statistica secondo la quale i cittadini della provincia di Isernia sono primi in Italia per cure fuori regione, preferiscono farsi curare in centri nelle regioni vicine. Partiamo da qui, dal servizio di Enzo Di Gaetano. Emergenza Sanità, nuova riunione dei sindaci convocata al Comune di Isernia per organizzare una manifestazione a Roma presso il Ministero della Salute. Le bozze del nuovo piano operativo spavendano i sindaci della provincia di Isernia perché l'unico ospedale provinciale dotato di quasi tutti i servizi, e si parla del veneziale, corre il rischio di essere trasformato in un punto di primo intervento e smistamento dei malati verso altre strutture ospedaliere. Ne si trova conforto nei nuovi dati statistici forniti dalla cosiddetta Griglia LEA 2018 che vedrebbe la nostra regione ottenere 180 punti, tanto da far dire al tavolo tecnico di Roma che i livelli essenziali di assistenza testimoniano la capacità della regione di rispettare il sistema universale delle cure. Una visione della realtà, quella del tavolo tecnico, che fa pugni però con la realtà dei numeri di altri indicatori come quelli diffusi dal Sole 24 ore nel suo rapporto sull'Indice Provinciale della Salute che al contrario di quanto affermano al tavolo tecnico di Roma certifica che il sistema sanitario molisano è al collasso, avviato a un punto di non ritorno. I numeri parlano chiaro e dimostrano che la provincia di Isernia è la prima in Italia per la fuga dei malati dai propri confini. Circa il 30% delle persone che indendono ricoverarsi lo fa in strutture ospedaliere di fuori regione. A Campobasso non va molto meglio se Isernia è prima in Italia per migrazione dei malati, Campobasso è la quarta con più del 25% delle persone che vanno a ricoverarsi fuori regione. E' sempre l'Indice della Salute del Sole 24 ore ci dà altre preziose informazioni come quella che l'aspettativa di vita vede Isernia al quintultimo posto in Italia mentre Campobasso è all'ottantottesimo posto nella parte bassa della classifica, giusto per sfatare un altro luogo comune. Quello che in Molise si vive bene è più a lungo, tutte sciocchezze. Non è affatto vero, soprattutto se la sanità non funziona come dovrebbe. Le province con la migliore aspettativa di vita sono Gorizia, Trieste e Biella. E chiudiamo con i dati relativi all'infarto, visto che a Isernia c'è l'intenzione di togliere emodinamica che nel 2018 ha effettuato 450 interventi salvando altrettante vite. Ebbene, Isernia si classifica all'ottantottesimo posto con 2,6 morti per infarto ogni mille abitanti. Un po' meglio va a Campobasso, 81, con 2,5 morti ogni mille abitanti. Questi sono i numeri del Molise e non parlano certo di una sanità in buona salute. Tanto che chi può sceglie di andare a farsi curare fuori. Rotta l'attack al Santimoteo a Termoli, accaduto nel pomeriggio di ieri. A causa del disservizio i pazienti sono stati trasferiti in altri ospedali della regione ma anche quelli di fuori regione più vicini per gli esami diagnostici. La TAC sarà sottoposta a verifiche dai tecnici prima di farne ripartire la funzionalità. La notte di sabato, Isernia, in una discoteca poco distante dall'ospedale, nel corso di una discussione, un ragazzo di 20 anni, di Fornelli, è caduto da un muretto del terrazzo attiguo alla discoteca. è stato soccorso al pronto soccorso del Veneziale in gravi condizioni e attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Si parla di trauma cranico con emorragia cerebrale. Per fortuna, dicono i medici, di piccola entità sulle circostanze dell'accaduto. Indaga la squadra mobile per accertare eventuali responsabilità. Un solo argomento domani all'ordine del giorno in Consiglio regionale. I bandi con i quali la Regione intende assumere personale a concorso, evidentemente, per i prossimi anni, anche a tempo indeterminato. Un argomento che ha già messo tensione all'interno della maggioranza e dunque si preannuncia una seduta piuttosto calda. Ce ne parla Anna Maria Di Matteo. Si annuncia ad alta tensione la seduta monotematica del Consiglio regionale convocata per domani mattina. Una convocazione che è arrivata in seguito alla richiesta presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, del PD e sottoscritta anche dagli esponenti di maggioranza Iorio e Calenda per fare chiarezza sui concorsi banditi dalla Regione per l'assunzione di 10 dirigenti e 14 amministrativi. Il Presidente della Regione, Donato Toma, finito nella bufera, sarà dunque chiamato a dare risposte sulle procedure seguite per il reclutamento del personale da assumere alla Regione con contratto a tempo indeterminato. Già la scorsa settimana, in occasione della seduta del Consiglio, la maggioranza, proprio su questo tema, era andata sotto. L'Aula, con i voti dell'opposizione e di quelli di tre consiglieri dissidenti, aveva infatti approvato la proposta presentata da Greco che chiedeva l'annullamento dei bandi destinate e l'assunzione dei dirigenti. In Aula, aveva denunciato l'esponente dei 5 Stelle, c'è chi ha detto di aver ricevuto i nomi dei vincitori e questo è inaccettabile, ha concluso Greco, che ha annunciato di aver inviato tutta la documentazione in procura. Insomma, l'accusa del Consigliere di Opposizione, un concorso fatto su misura per alcuni dipendenti interni pronti all'avanzamento di carriera, imbarba quella trasparenza rispetto della meritocrazia da più parti auspicati. Il voto di martedì scorso ha aperto uno squarcio sull'attuale situazione politica in seno alla maggioranza, defezioni pericolose rispetto a quella che è la linea del governatore e che possono avere conseguenze pesanti sulla tenuta degli equilibri già fragili della coalizione. La seduta di domani rappresenta un banco di prova importante per la maggioranza e soprattutto per il Presidente della Regione Toma. Sono soddisfatta del voto favorevole del Consiglio regionale al mio ordine del giorno che prevede le cosiddette sedie job nelle spiagge e negli stabilimenti balneari del Molise. Lo ha dichiarato Aida Romagnolo a proposito dell'introduzione delle sedie a ruote gonfiabili, studiate appositamente per far fare il bagno ai soggetti portatori di handicap che permettono un facile accesso all'acqua e alla possibilità di effettuare anche passeggiate sul bagnasciuga. Adesso parliamo di elezioni. Nel 2020 ci sono diversi appuntamenti elettorali. Quello più imminente è le elezioni regionali in Emilia-Romagna che tiene banco nell'agenda politica non solo di quella regione ma anche a livello nazionale. Con Enzo Luongo la mappa degli appuntamenti elettorali, pochi ma alcuni dei quali significativi, anche nella nostra regione nel 2020. Vediamo. Quali sono le prossime sfide elettorali in Molise? Facendo un po' di calcoli, il quadro che emerge dice che salvo clamorosi colpi di scena non ci sono grandi scadenze imminenti. Per la regione si è votato un anno e mezzo fa, per le politiche idem come si è votato da pochissimo, anche per i sindaci dei due centri più grandi, Campobasso e Termoli, mentre Isernia sceglierà il nuovo sindaco solo nel 2021. Nel 2020 dunque ci si concentrerà su poche sfide locali, con un paio di casi sicuramente più rilevanti degli altri. Complessivamente sono 17 i comuni molisani che la prossima primavera, quasi certamente nel mese di maggio, andranno alle urne per rinnovare le loro amministrazioni comunali. In provincia di Campobasso la sfida delle sfide è quella di Boiano, 8 mila abitanti. Nel centro matesino, come è noto il sindaco Marco Di Biase, si è dimesso durante l'estate ed è dunque arrivato il commissario. Si andrà a votare un anno prima della scadenza naturale del mandato. Di Biase era stato eletto infatti nel 2016. Altra competizione molto attesa è quella di Montenero di Bisaccia, 6.600 residenti. Nel paese di Antonio Di Pietro si vota a scadenza naturale, considerato che il sindaco uscente Nicola Travaglini fu eletto nel 2015. Gli altri centri della provincia interessati alla mini tornata elettorale sono Bonefro, Casal Ciprano, Cerce Piccola, Lupara, Pietracatella, Pietracupa, Providenti, Roccavivara e San Giuliano del Sagno. In provincia di Sernia sono invece 6 i comuni interessati. Quello più grande è Sesto Campano, 2.300 abitanti, ma ci sono anche Montenero Balcocchiara, Poggio Sannita, Pozzilli, Rocca Sicura e Sant'Angelo del Pesco. Denunciato a piede libero per furto un 48enne di Campobasso, già noto alle forze dell'ordine. A lui i carabinieri del capoluogo sono risaliti grazie all'esame del DNA. Nel compiere un furto in un negozio cittadino, il furto è avvenuto nel 2016, il ladro si era ferito e aveva perso del sangue. Con le analisi del RIS i carabinieri hanno accertato la sua identità e lo hanno denunciato a piede libero, come dicevamo, all'autorità giudiziaria. Che fine fa il cibo che non mangiamo? Quello sulle nostre tavole la quantità è piuttosto ridotta, ma per quanto invece riguarda soprattutto gli operatori, ci troviamo spesso di fronte a quantità invece molto consistenti. A Termoli è stato presentato un progetto che ha un doppio fine, quello innanzitutto di evitare gli sprechi e poi anche di aiutare persone in difficoltà. Per chi riesce a recuperare e a donare cibo in eccedenza, c'è la possibilità degli sgravi fiscali. Sentiamo Manuela Iori. Donare alimenti in eccedenza e allo stesso tempo aiutare non solo le persone in difficoltà economiche, ma ottenere anche sgravi fiscali per la propria azienda. Ora è possibile grazie a un progetto già intrapreso dal Comune di Milano e che ha sposato anche il Comune di Termoli, portato avanti dall'associazione COVSAL in collaborazione con lo studio CONSA e con la CONFE SERCENTI. Si chiama Profit No Profit e partirà dalla formazione degli operatori che aderiranno e che ci sarà nelle giornate del 14, del 21 e del 28 novembre, infine il 6 dicembre. Un corso gratuito aperto a piccole attività commerciali ai ristoranti e alle catene della grande distribuzione. Il progetto PMP Profit No Profit nasce tramite la possibilità che ci è stata data dal CSV Molise, quindi dal Centro Servizi Volontariato, che tramite un'attività di ricerca svolta dall'associazione COVSAL ha notato come vi era un eccesso di spreco alimentare di prodotti da parte di attività come supermercati e negozi alimentari. Da qui nasce il progetto di formare, tramite corsi di formazione gratuiti, tutti gli operatori, quindi enti del terzo settore, attività commerciali e associazione, nella donazione degli alimenti. Le aziende che aderiscono possono ottenere agevolazioni sull'IVA e riduzioni sulla tassa dei rifiuti. Che tipo di prodotti possono essere donati? Allora, la legge Gadda, la 166 del 2016, stabilisce dei parametri relativi alla tipologia di prodotti che possono essere donati. Ad esempio, prodotti invenduti in seguito ad attività promozionali oppure prodotti che hanno anche superato il TMC, quindi il da consumarsi preferibilmente entro, oppure prodotti legati a sbagliate previsioni di vendita, ma comunque devono avere tutti ancora i requisiti di sicurezza alimentare. L'amministrazione ha subito aderito al progetto sposando la campagna contro lo spreco alimentare. Devo dire che è un progetto davvero interessante per tutta una serie di motivi. Intanto perché, ripeto, dà sostegno ai più bisognosi e aiuta quindi tante persone in difficoltà, ma aiuta anche lo smaltimento dei rifiuti perché sono alimenti che ovviamente nel momento in cui riusciamo a riciclarli, tra virgolette, non devono essere smaltiti. Sta per iniziare nelle scuole una campagna di sensibilizzazione alla riduzione dello spreco alimentare. Intanto aumentano le famiglie che hanno difficoltà a mettere qualcosa sulla tavola. Io in assessorato ogni giorno trovo delle persone che mi vengono a chiedere aiuto, aiuto di ogni genere, economico ma anche alimentare, perché a volte ci sono delle associazioni che non hanno più prodotto e quindi non possono più conferirlo. Grande soddisfazione per l'arma dei carabinieri, due di Campobasso, due sottoufficiali in forza da molti anni al comando provinciale con diversi incarichi in provincia, hanno superato una difficile selezione a livello nazionale per la nomina di un numero ristretto di nuovi ufficiali dell'arma. Sono i sottotenenti Giuseppe Nestola, attualmente in servizio alla compagnia di Larino, e Ugo Funaro, per molti anni in servizio a Boiano. Nominati sottotenenti hanno intrapreso da pochi giorni la frequenza di un corso di aggiornamento alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma per poi essere destinati a incarichi di comando dei reparti retti da ufficiali. In una breve cerimonia, i due militari hanno dapprima ricevuto le congratulazioni del colonnello Emanuele Gaeta, comandante provinciale di Campobasso, del tenente colonnello Raffaele Iacuzio, comandante della compagnia di Larino, e dal tenente Edgar Pica, comandante della compagnia di Boiano. Naturalmente complimenti da parte di tutti i loro colleghi. La legge finanziaria, il cosiddetto collegato alla finanziaria di quest'anno, prevede una serie di novità per i commercianti. La Confcommercio di Campobasso ha promosso una serie di incontri sul territorio per fornire tutte le informazioni necessarie. Il primo appuntamento si è svolto proprio nel capoluogo. Sentiamo Fabiana Abbazia. Un tour sul territorio promosso dalla Confcommercio a supporto degli imprenditori a fronte della prossima entrata in vigore delle modifiche apportate dal cosiddetto collegato alla finanziaria 2019. Per i commercianti al minuto e tutti i soggetti assimilati, dal 1 gennaio 2020 scatterà infatti l'obbligo di memorizzare elettronicamente, ed inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Un passaggio netto che va a sostituire comportamenti radicati nella vita lavorativa di un esercizio legati alla vecchia chiusura di casse per il quale la Confcommercio ha inteso promuovere una serie di incontri finalizzati a dissipare i dubbi e a fornire tutte le informazioni necessarie, anche quelle relative alla necessità di riconvertire i sistemi attualmente in uso nei registratori telematici. La prima tappa del tour ha preso il via a Campobasso per proseguire poi a Eserni il 13 novembre, il giorno successivo a Termoli. Appuntamento invece ad Agnone il 19 novembre e il 20 a Venafro. Gennaio è infatti alle porte ed è importante non farsi trovare impreparati. Il non rimandare, l'appello è proprio quello ad informarsi e quindi a partecipare anche ai nostri incontri sul territorio, perché magari oggi diamo per scontato qualcosa, oppure diciamo vabbè poi contatteremo il commercialista, ma in realtà poi già dal primo giorno ci troveremo magari ad affrontare delle situazioni e non sappiamo come comportarci. Se non cambierà quasi nulla per i consumatori, cosa muterà invece per gli imprenditori? La differenza fondamentale è che a fine giornata la macchina, il registratore telematico, automaticamente invierà il totale dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Tutto questo, secondo quello che dicono a livello centrale, servirà per un maggior controllo, una maggiore tempestività. Non ci sarà più l'obbligo del registro dei corrispettivi, non ci sarà più il libretto di uso e manutenzione del registratore di cassa, però di contro ci sarà l'obbligo di avere il registratore di cassa connesso ad internet. Mi domando ora per quelli che stanno nei paesi dispersi del Molise come faranno ad avere una trasmissione quotidiana. Ovviamente l'Agenzia delle Entrate ha pensato anche a questo e ci sono delle modalità che si adottano per trasmettere i corrispettivi anche se non si è perennemente connessi ad internet. Quindi nessuna paura, nessun timore. Apriamo ora la pagina dedicata agli appuntamenti e agli eventi. Cominciamo con quello che si è svolto a Isernia con la scrittrice Maria Pia Veladiano che ha incontrato gli studenti dell'Istituto Cuoco Manuppella. Si è parlato del romanzo scritto dall'autrice che ha vinto anche il premio Calvino e secondo classificato al premio Strega, il servizio di Sergio Di Vincenzo. La vita accanto racconta la storia di Rebecca, una bambina brutta. Ne è consapevole al punto di privarsi della gioia di scoprire il mondo, di uscire di casa durante il giorno. È infelice, ma questa bambina ha anche un grande talento. Quando suona il pianoforte, incanta tutti con melodie bellissime. Proprio questa sua grande passione le permetterà di riscattarsi, di scoprire la debolezza e l'imperfezione degli altri, di capire meglio se stessa e di comprendere che la vita ha tanto da darle e che lei ha tanto da dare alla vita. Dopo aver letto questo romanzo, gli studenti di scienze umane del liceo linguistico del Cuoco Manupella di Sernia, protagonisti di un progetto di lettura pedagogica e psicoanalitica curato da Graziella Iannuzzi, si sono confrontati con l'autrice Maria Pia Veladiano. In realtà la scuola, nella misura in cui fa imparare ai ragazzi la reciproca conoscenza, è un antidoto fondamentale contro ogni forma di esclusione. Io credo, lo dico sempre, la scuola è il laboratorio più importante di condivisione della propria vita, di inclusione. La scuola pubblica ha questo ruolo perché raccoglie ogni tipo di persona, di bambino che arriva e questo fatto ci aiuta a fare una società di pace. Questo romanzo, tra l'altro vincitore del premio Calvino e secondo al premio Strega, affronta anche un altro tema, purtroppo sempre attuale nelle scuole, ma non solo, quello del bullismo. La protagonista, Rebecca, subisce diverse umiliazioni dai suoi compagni di classe. Nel caso del libro, del libro La vita accanto, l'episodio nasce da una sostanziale incapacità di lettura dei disagi da parte dell'adulto, molto spesso scogliendo i segni, i sintomi in modo precoce, anche intervenendo, anche in modo leggero, con la capacità riparativa che ha il rapporto educativo, questo bullismo può essere contenuto e prevenuto. Io non credo molto, invece, nei corsi contro il bullismo, credo che ci sia da mettere in atto una rinnovata capacità di osservare e di ascoltare. Nel decimo anno della morte di Alda Merini, il premio del concorso nazionale a lei intitolato è stato vinto dalla scuola di Vinchiaturo, che ha partecipato con i lavori dei suoi piccoli alunni. Le immagini amatoriali si riferiscono alla premiazione, oltre 1600 le poesie arrivate da tutta Italia nelle sezioni infanzia, primaria e scuole medie. Alla cerimonia che si è svolta al Teatro Litta di Milano erano presenti gli scolari di Vinchiaturo che ovviamente, oltre al premio ritirato, hanno ricevuto anche i complimenti di Claudio Bisio che ha presentato la serata. Il premio consiste in 50 libri di poesie per i ragazzi da regalare alla scuola, ai vincitori di Vinchiaturo, anche le congratulazioni della nostra redazione. Aperti i mercatini di Natale a Limatola, in provincia di Benevento, l'evento, la rima è involontaria, si è verificato, si è svolto nello scenario del castello. Sentiamo. Beppe Vessicchio e Stefano Sgueglia, siamo qui al castello di Limatola, cadò al castello, una presenza, insomma, la sua, Vessicchio, veramente, insomma, qualificata e qualificante. Ma, insomma, questo non lo posso dire io. Io sono amico di Stefano e sono contento che lui mi abbia invitato perché l'anno scorso sono venuto, abbiamo anche fatto un piccolo concerto con un'orchestra da camera all'interno della cappella e sono rimasto veramente colpito dall'ingegno e dalla passione che lui, soprattutto Pina, che ha ideato tutto questo, allora hanno profuso in questa iniziativa. È un'iniziativa che, con il numero di visitatori che ha, segnala quanto loro hanno interpretato quello che di necessario c'è e soprattutto l'hanno collegata ad una struttura così emblematica che è il castello su un territorio. Insomma, ti faccio i complimenti perché non c'ero mai stato ed è veramente un piacere e un onore essere qui. Niente, qui è un esempio che probabilmente le cose, quando vanno fatto bene, riescono. Il merito, come sempre, non è solo mio e molto di mia moglie che molti anni fa ha creduto in questo progetto. Non è stata lei a inventare i mercatini di Natale, sicuramente, ma al sud è stato, è in un castello, secondo me è stato uno delle prime. L'esperimento è che più andiamo avanti più ci siamo risconti che riesce ed è riuscito. Tanto da allarmare le forze pubbliche, allarmare i prefetti e tutti, cercando anche di limitarci nel numero delle persone per una questione di sicurezza. Perché quest'anno, non so se avete visto, abbiamo cercato di limitare un poco gli ingressi, sia la mattina che il pomeriggio, per far sì che tutta l'Italia possa visitare questa meraviglia, dico io, perché poi le facciamo le cose, ma le facciamo con emozione, si sente, le facciamo perché ci crediamo, perché è compassione. Poi quando escono, escono tutti quanti sorridenti. Significa qualcosa. Castello di Limata non è solo mercatino di Natale, ma sono cerimonie e matrimoni tutto l'anno. Certamente, senti, ma per venire occorre prenotare? Conviene prenotare, non avventurarsi. Perché altrimenti si fanno file incredibili. Si rischia di non entrare. Si rischia di non entrare. Tanta gente anche a Gildone, nel cosiddetto Giro di San Martino, un evento che ha avuto per protagonista il vino novello, che apre di fatto la stagione enologica, il servizio è di Fabiana Abazia. Riscoprire la tradizione di San Martino degustando piatti tipici e buon vino all'interno delle cantine allestite lungo il caratteristico centro storico di Gildone. In tanti hanno voluto prendere parte alla manifestazione che ha visto un intero paese collaborare per la buona riuscita dell'evento. Tante anche le persone provenienti da fuori regione che hanno avuto modo di apprezzare la cucina molisana. Il tempo non è stato proprio dalla nostra parte, infatti ci ha rallentato moltissimo i preparativi. Però nonostante ciò, grazie al moltissimo impegno che abbiamo messo tutti noi, siamo riusciti anche quest'anno a presentare un bellissimo giro di San Martino, sesta edizione. Voglio dire, diciamo un po' a tutti quanti, veramente grazie a tutti coloro che ci hanno dato una mano e hanno organizzato le cantine in questi giorni. Tutte le persone stanno dietro alle cantine. Il tempo è un po' contrario, però comunque non abbiamo desistito e siamo venuti comunque. Lei è originaria di qui? Esatto, sì, sono nata qui, però sono poi volata a Roma da piccolina, però ritorniamo molto felicemente. Questo è il legame con il Molise? Sì, sì, cerchiamo di portare le nostre tradizioni anche a Roma. Con le tradizioni molisane anche a Roma, al di fuori dei confini regionali, avete coinvolto anche degli amici, come sta andando? Benissimo, benissimo, bello. Un paese accogliente? Molto, molto. Anche la cucina ottima, piatti tipici come pizza e minestra, la lassata, sono piatti magari sconosciuti al resto d'Italia, ma sono piacevolissimi. Pasta e fagioli, baccalà, raccanato, pizza e minestra sono stati solo alcuni dei piatti proposti durante il Giro di San Martino, manifestazione che punta alla valorizzazione di un centro storico dove i veri fautori sono i giovani. Il segreto di questo piatto ce lo può dire? La materia prima, olio d'oliva extravergine, pomodori di casa e salsa casarecce e nient'altro. Senta, in questa cantina vediamo giovanissimi, no? Bambini, ragazzi, persone un po' più mature che condividono la preparazione, condividono il lavoro, è bello. Andiamo a mandare avanti questa tradizione perché siamo poca gente, allora familiarizziamo tutti insieme, aiutiamo i ragazzi a invogliarli, a farli andare avanti così. Senta, e i ragazzi come la vivono secondo lei, no? C'è impegno da parte loro, li vediamo al lavoro? Sono 15 giorni che lavorano questi ragazzi per queste cantine. Bella soddisfazione. Molto, molto bella. Ci fermiamo su queste immagini, è tutto per l'edizione delle 14, vi lascio alle previsioni del tempo, ci ritroviamo tra poco più di mezz'ora per gli aggiornamenti, grazie e a più tardi. Grazie.